Di origine normanna, il castello fu probabilmente edificato su preesistenti strutture alto medievali. Rimaneggiato nella seconda metà del secolo XV dagli Orsini, passò nel 1546 alla famiglia dei conti Acquaviva d'Aragona, che rafforzarono la costruzione con la giunta di una torre poligonale e, al contempo, ne sottolinearono gli aspetti specifici di residenza signorile. Due dei più famosi abitanti del castello furono senza dubbio il conte Gian Girolamo, detto il Guercio di Puglia, e la consorte Isabella Filomarino, nota come Aspide di Puglia. Tra la seconda metà del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento si realizzarono nuovi ambienti all'interno del complesso, tra cui le stanze di rappresentanza, dove i conti ricevevano i loro ospiti ed esponevano la propria collezione di opere d'arte, che, secondo un inventario del 1666, comprendeva oltre 500 dipinti, argenti, cristalli, sculture, mobili e paraceli. Da segnalare sono la camera da letto, con la sua volta splendidamente affrescata, e le dieci tele raffiguranti la Gerusalemme liberata, il poema di Torquato Tasso, incentrato sulla prima crociata, dipinte da Paolo Finoglio intorno al 1640, per uno dei saloni principali. Dei dieci episodi, quattro sono dedicati a Tancredi e alle sue vicende con Clorinda ed Erminia, cinque a Rinaldo e alla sua relazione con Armida, mentre l'ultimo rappresenta il duello tra Raimondo di Tolosa e Argante. Grazie alle ristrutturazioni dell'Acquaviva, l'antico maniero si era trasformato in un palazzo ristaurato per la dimora più splendida del conte Acquaviva, padrone della città e del territorio, con l'opportunità per l'alloggio dei forastieri suoi pari. L'abbandono del castello da parte dei conti, che nel Settecento si trasferirono nel capoluogo partenopeo, dove avevano possedimenti e palazzi, determinò il lento invecchiamento della collezione e il suo impoverimento, forse per trasferimenti delle opere in altre sedi o per la loro vendita, fino alla totale dispersione e alla vendita del ciclo pittorico di Finoglio. I dipinti con le storie del Tasso sono tuttavia stati riacquisiti dal Comune negli anni Settanta e sono oggi visibili nella pinacoteca del castello. Grazie 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 Grazie